e in questo caso ci concentriamo appunto come saprete sulla figura centrale, sul grande protagonista della civiltà artistica del Seicento, del barocco a Cremona, che è Genovesino. Luigi Miradori, detto Genovesino, due notizie proprio per inquadrare i suoi estremi biografici e i termini essenziali della sua carriera, è un pittore che nasce quasi certamente a Genova intorno alla metà del primo decennio del Seicento, dopodiché della sua formazione non sappiamo quasi nulla, sappiamo che però il pittore è attestato a Genova fino al 1630, dopodiché per ragioni che solo in parte si riescono a chiarire, all'altezza del 1632 Genovesino risulta essersi trasferito a Piacenza, che era una città all'epoca farnesiana, città nella quale appunto Miradori rimane fino almeno al 1635, che è l'ultimo anno di attestazione appunto a Piacenza e alla conclusione di questo soggiorno piacentino, non particolarmente fortunato sul piano professionale e anche su quello umano, avviene il decisivo trasferimento del pittore a Cremona, città nella quale appunto Genovesino è documentato a partire dal 1637 e nella quale poi rimarrà fino alla morte nel 1654, diventando il protagonista assoluto della scena pittorica cittadina, lavorando sia presso tutte le più importanti committenze religiose, sia presso i collezionisti più qualificati della città, a partire da quello che all'epoca era il governatore di Cremona, Don Alvaro De Chignones, un rapporto questo particolarmente interessante nella storia di Genovesino, che è stato messo a fuoco tra l'altro qualche anno fa in un libro molto prezioso e molto intrigante di Marco Tanzi. Ecco, perché appunto questo appuntamento su Genovesino? Innanzitutto ci sembrava necessario anche a ormai più di quattro anni, quasi cinque anni, insomma, dalla mostra monografica sul pittore che si è tenuta al Museo Civico di Cremona, tornare un po' a ragionare, a valorizzare la parabola così singolare di questo pittore, ma il motivo poi, diciamo così, più cogente, diciamo così, quello che più ci ha spinto a scegliere questo argomento è anche la volontà di dare il rilievo che merita ad un libro importante, ad uno studio importante su Genovesino che è stato pubblicato ormai più di un anno fa da Francesco Ceretti, che è qui con me. Il libro, lo vedete qua, si intitola Genovesino e le carte stampate, è un libro pubblicato nel dicembre 2020. Quindi in un periodo non particolarmente felice, diciamo così, e per cui non è stato neanche possibile, diciamo così, dargli la visibilità che meritava attraverso delle presentazioni ufficiali perché eravamo in piena pandemia, quindi oggi cerchiamo un po' di recuperare il tempo perduto. Ceretti è uno studioso che si è formato in questo dipartimento, ha conseguito la laurea triennale scienze letterari dei beni culturali nel 2018 e dopodiché ha conseguito sempre qui la laurea magistrale in storia dell'arte e attualmente sta facendo il dottorato di ricerca all'Università di Udine. Tra l'altro questo volume è sostanzialmente un volume che, diciamo, riprende, ampliandolo e precisandolo, il tema che lo stesso Ceretti aveva affrontato nella sua tesi triennale, che era una tesi, diciamo così, di cui io ero un relatore, che era, diciamo, di dimensioni abbastanza, diciamo così, mostruose, perché era una tesi di quasi 200 pagine. Mi ricordo questo dettaglio perché poi quando un paio di anni dopo Ceretti è venuto a chiedermi se volevo fare il relatore anche della sua tesi magistrale, gli ho detto guarda che però la tesi triennale sono 6 crediti, la tesi magistrale sono 30 crediti, non è che adesso devi fare un lavoro 5 volte più grande, se no non ne usciamo vivi, infatti è stato più ragionevole. Quindi il libro di cosa si occupa? Poi chiaramente ce ne parlerà più nel dettaglio l'autore che è qui con noi. Però il tema, insomma, è quello di, il lavoro che ha fatto Ceretti è quello di riconoscere all'interno del catalogo di Genovesino una serie imprevedibile, sorprendente di rimandi, diciamo così, a modelli incisori, modelli incisori della più diversa epoca e della più diversa, diciamo così, provenienza geografica, una pratica che praticamente attraversa l'intera vicenda di Genovesino. Quindi il tema che sta, diciamo, l'indirizzo metodologico, l'obiettivo che sta alla base di questo volume è quello di ragionare proprio sulle fonti figurative di un pittore, sui modelli che stanno alla base delle invenzioni, delle creazioni di un pittore. Uno studio che per la storia dell'arte è fondamentale, ma che spesso si tende un po' a sottovalutare, perché abbiamo tutti un po' figli, in modo più o meno consapevole, di una concezione, di un approccio all'opera d'arte che tende a farcela vedere come la creazione in qualche modo autonoma e originale, priva di condizionamenti dell'istinto espressivo di chi la realizza. In realtà le cose non stanno così, gli artisti si guardano la vicenda, hanno un sacco di modelli con cui si confrontano. C'è un passo da questo punto di vista di quel testo, fondante per la disciplina storico-artistica del Novecento, che sono le proposte per la critica d'arte di Roberto Longhi, pubblicato più di 70 anni fa, un passo che va proprio in questa direzione e ci fa capire come ogni opera d'arte va da letta alla luce di un rapporto e innanzitutto di un rapporto con un'altra opera d'arte. Da questo punto di vista il rapporto tra produzione pittorica e modelli incisori è una storia che ci fa capire quanto sia importante ragionare sulle fonti, sui modelli che gli artisti utilizzano. Come sappiamo la produzione di immagini a stampa è un fenomeno che inizia sostanzialmente negli anni successivi alla metà del Quattrocento e che conosce poi una fortuna illimitata, progressiva, che poi arriva fino ai nostri giorni, che non è neanche stata arrestata, non è stata neanche limitata dalle sperimentazioni nel campo dell'arte digitale. Ed è una produzione che, adesso schematizzando molto la cosa, ma può essere utile ragionare un po' per massimi sistemi in questo caso, è una produzione che si divide fondamentalmente in due grandi campi. Da una parte abbiamo la produzione di immagini a stampa che sono frutto dell'invenzione originale e autonoma di artisti che a volte sono anche pittori, ma sono comunque grandi incisori. E qui sto riferendomi ai grandi maestri della storia dell'incisione, dal Rinascimento, da Albrecht Dürer a Rembrandt a Giovanni Battista Piranesi, insomma, grandi maestri dell'incisione che creano, diciamo così, le loro opere autonomamente, lavorando appunto la lastra di rame nel caso della calcografia o la lastra di legno nel caso dell'exilografia. Qui vi faccio vedere due opere tra le migliaia che avrei potuto pescare, ma c'è un motivo se ho scelto queste due, sono due incisioni famose di Dürer che appartengono ad uno dei cicli più fortunati di questo grande incisore germanico, appunto sono due rappresentazioni relative alla storia della passione e della storia di Cristo che appartengono al ciclo della cosiddetta piccola passione, questo volumetto che poi Dürer concluderà nel 1511 che avrà una fortuna illimitata. Accanto a questa produzione di immagini in qualche modo originali, nei quali le incisioni sono frutto dell'invenzione di chi le realizza, abbiamo poi un altro versante della produzione di stampe che, nell'ottica della ricerca delle fonti degli artisti, è altrettanto significativo, è quello di quelle incisioni che vengono realizzate da artisti che sono in prevalenza soprattutto incisori, o quasi sempre soprattutto incisori, sono specialisti di quella tecnica, i quali copiano nelle loro opere modelli realizzati in precedenza da grandi pittori, che per lo più sono pittori quasi contemporanei. È una storia questa che comincia ad affermarsi soprattutto all'inizio del Cinquecento e che ha, diciamo così, una scintilla fondamentale nella vicenda di Raffaello. Sostanzialmente è soprattutto dal momento in cui Raffaello nel 1508 si trasferisce a Roma, l'artista capisce il ruolo cruciale che può avere la riproduzione a stampa dei suoi modelli per, diciamo così, divulgare quei modelli e per renderli in qualche modo normativi, per promuovere se stesso e il proprio linguaggio. Quindi a partire dai suoi anni romani Raffaello si circonda di una serie di incisori che lavorano a contatto con lui e che in molti casi appunto riproducono le sue le sue invenzioni. Qui vediamo anche qui uno tra i moltissimi casi che avrei potuto pescare. A sinistra appunto una delle più importanti pale romane dei primi anni romani di Raffaello, la Madonna di Foligno, un'opera realizzata per la chiesa di Santa Maria in Araceli all'inizio del secondo decennio del Cinquecento e a destra la riproduzione limitata al dettaglio della Madonna in gloria incisa da uno dei più fedeli collaboratori, dei più fedeli traduttori dei modelli di Raffaello c'è Marcantonio Raimondi, questo grande incisore bolognese appunto che si specializza anche nella realizzazione di opere tratte dai modelli di Raffaello. Ecco questo rapporto tra l'altro in alcuni casi è un rapporto anche più vincolante quello tra l'invenzione dell'artista pittore e la traduzione incisoria, nel senso che nel caso precedente noi abbiamo il dipinto e poi abbiamo la traduzione parziale di Raimondi, ma abbiamo anche, sempre a partire proprio dall'esperienza di Raffaello Romano, vediamo affermarsi questa consuetudine, cioè di opere realizzate da incisori che non traducono dipinti realizzati da grandi maestri contemporanei, ma traducono disegni che quei grandi maestri contemporanei avevano realizzato apposta affinché venissero tradotti in incisione. Quindi è questo, diciamo così, l'opera che qui stiamo vedendo che è il giudizio di pari di Marcantonio Raimondi è uno dei casi più nobili diciamo di questa pratica. In questo caso cosa succede? Raffaello realizza un disegno, che peraltro oggi è perduto, con il preciso scopo di garantirgli, di dare la possibilità a Marcantonio Raimondi di tradurlo in stampa. Questa avviene appunto intorno alla metà del secondo decennio del 500 ed è interessante notare come ad esempio Vasari nella biografia che scrive di Marcantonio Raimondi lodi questa impresa grafica di Raimondi che era, diciamo così, anche dal punto di vista tecnico un vero capolavoro e sottolinei come quando uscì questa stampa ne stupì tutta Roma, ne stupì tutta Roma. Quindi dà l'idea di come questi fogli in qualche modo poi avessero un impatto maggiore di quanto magari noi oggi possiamo pensare sulla scena artistica locale. Quindi cosa succede? Questi due fenomeni in qualche modo paralleli, le incisioni originali per così dire e le incisioni dei copisti, anche se questo termine può sembrare un po' riduttivo, poi fanno sì che a partire dagli anni tra quattro e cinquecento in Italia e in Europa cominci a propagarsi una serie infinita di modelli grafici, di modelli grafici che appunto i modelli grafici sono per loro natura dei multipli ma non solo, sono oggetti, sono opere che viaggiano facilmente e velocemente, che non sono costose e quindi gli artisti cominciano ad approvisionarsi di questo materiale, di questo repertorio per avere, diciamo così, per farsi una cultura in qualche modo su quello che stava succedendo nel contesto della scena artistica contemporanea. Ed è un fenomeno questo che è difficile sopravvalutare, perché se ci pensiamo bene è davvero un primo momento proprio di, per usare una parola oggi diciamo così, molto di moda, di globalizzazione proprio dei modelli figurativi. I modelli figurativi tramite le stampe diventano patrimonio in qualche modo non più localizzato geograficamente ma così che valica tutti i confini, i confini tra le regioni, i confini tra le città ma anche i confini tra le nazioni, anche se all'epoca non si poteva parlare in senso moderno di nazioni. Quindi è un fenomeno che ha la stessa portata, la stessa valenza così epocale proprio della nascita dei testi a stampa, dell'editoria, dell'editoria in ambito letterario. È un po' come passare dai manoscritti che per essere conosciuti avevano bisogno di essere trascritti a uno strumento che consentiva una diffusione senza confini, col vantaggio che però a differenza dei testi a stampa le stampe, le immagini a stampa non avevano bisogno di essere tradotte e quindi potevano essere comprese da ovunque territorio provenissero. Quindi questa dimensione così internazionale senza ostacoli di questa diffusione è dimostrata anche da uno degli episodi che all'inizio del Cinquecento meglio documenta proprio le ricadute che la diffusione delle stampe ebbero sulla produzione artistica contemporanea. Cosa succede? Succede che all'inizio del Cinquecento molti artisti in molte parti d'Italia, rimangono affascinati proprio da queste stampe che arrivano dalla Germania, Dürer ma non solo Dürer ma adesso che dobbiamo un po' semplificare, e rimangono affascinati da questo linguaggio così vigoroso, da questo realismo così espressivo e ad esempio qui vediamo un caso emblematico di questa relazione. Qui è Pontormo, negli affreschi della Certosa del Galluzzo poco fuori Firenze, affreschi strappati, che nel concepire questa immagine della Resurrezione dimostra di rifarsi in modo piuttosto preciso ad alcuni dettagli proprio della lastra di Dürer che abbiamo appena visto. Guardate soprattutto il dettaglio del soldato in quella posa così singolare con le gambe in primo piano e la spada appoggiata al bacino. I rapporti tra le due immagini sono anche più numerosi e quindi Pontormo, un artista che aveva una tradizione figurativa nobilissima come quella fiorentina, più grande esponente del magnolismo fiorentino, rimane stregato da queste stampe che arrivano dalla Germania. Questo avviene nel cuore degli anni 20 e del 500 quando già prima però, prima di Pontormo, altri artisti in Italia settentrionale, in particolare proprio Cremona da questo punto di vista è un contesto cruciale, stavano compiendo, stavano in qualche modo interessandosi alle stesse fonti figurative. Qui vediamo Altobello Melone, grande pittore, grande protagonista della scena artistica cremonese di primo 500, questo è uno degli affreschi appunto del meraviglioso ciclo della Navata del Duomo che tutti ben conoscete, la strage dei innocenti e qui ancora un rapporto con Dürer. Qui tra l'altro il soggetto è diverso perché l'incisione di Dürer raffigura Cristo davanti ad Anna, l'affresco e la strage dei innocenti, però se ci concentriamo sulla figura del sacerdote Anna nell'incisione di Dürer e sulla figura di Erode nell'affresco di Altobello, vediamo che la figura di Erode è concepita, ma anche diciamo così, il contesto nel quale è collocato, sono concepiti avendo bene in mente il modello di Dürer, guardate i movimenti delle pieghe, la mano con questo indice un po' uncinato, il dettaglio del cuscino con la nappa sulla destra, il cagnolino in basso, anche la stessa pedana sulla quale sono seduti entrambi i personaggi. Quindi cosa succede? Abbiamo due artisti che appartengono a due tradizioni artistiche completamente diverse, la Lombardia, la Cremona e la Lombardia di Altobello Melone e la Firenze di Pontormo, che pur rimanendo in qualche modo artisti profondamente diversi, però si confrontano con modelli simili. Questo ci fa capire come questa diffusione delle stampe poi introduca nella geografia degli stili, in quella che è il percorso autonomo delle varie realtà locali dal punto di vista stilistico, poi una variabile, una scompagine un po' le carte. Contemporaneamente però avviene un fenomeno che in qualche modo è un po' l'altra faccia della medaglia. Cioè noi cosa vediamo? Vediamo che sempre a Cremona, pochi anni dopo, diciamo così, l'affresco di Altobello, che è del 1517, tutto così nutrito di citazioni nordiche, tedesche e dureriane, viene realizzata questo dipinto. È un dipinto molto meno entusiasmante di un artista, diciamo così, di calibro inferiore certamente rispetto ad Altobello, Bernardino Ricca, un pittore cremonese che nel 1521 realizza per la chiesa di San Pietro del Po questa deposizione di Cristo dalla Croce. Un dipinto che è, diciamo così, ispirato, più che ispirato, proprio una sorta di coppia quasi, da un'incisione di Marcantonio Raimondi tratta sempre da un modello di Raffaello. Quindi dalla parte abbiamo due artisti, uno a Firenze e uno a Cremona, che, diciamo così, rimangono affascinati entrambi da Durer. Dall'altra parte abbiamo nella stessa città di Cremona un artista che guarda Durer e l'altro che guarda ai modelli, diciamo, romani, Raffaelleschi tramite la stampa di Marcantonio Raimondi. Quindi vedete che tipo di novità, di nuove sollecitazioni entrano in gioco, insomma, a partire dalla circolazione di queste stampe. E adesso poi non voglio toglierlo troppo tempo, quindi arrivo subito a dare la parola a Francesco Ceretti. C'è poi un altro, diciamo così, fenomeno, diciamo così, di carattere più generale che è proprio sul quale il libro di Ceretti ci consente di ragionare in modo molto preciso, direi per la prima volta. Il libro di Ceretti si divide fondamentalmente in due parti. C'è una lunga parte dedicata proprio a Genovesino, al suo rapporto con le stampe, c'è poi una seconda parte più limitata ma di grande interesse, nella quale fondamentalmente per la prima volta ci si propone di analizzare, diciamo così, le vicende di molti artisti italiani del Seicento, contemporanei quindi di Genovesino, per cercare di coglierli con le mani nel sacco, di cercare di capire se anche loro, come Genovesino, trassero ispirazioni dalle stampe precedenti. La cosa che emerge sia dall'analisi di Genovesino, sia da questa panoramica appunto sul contesto contemporaneo delle varie scuole italiane è una cosa molto interessante. Ci si rende conto che gli artisti del Seicento sono molto, diciamo così, liberi, quasi spreciudicati nel compiere un'operazione ulteriore rispetto a quella che abbiamo detto. Cioè, li scopriamo molto spesso a citare non solo nelle loro opere modelli di provenienza geografica diversa, quindi tedeschi, fiamminghi, italiani, eccetera, eccetera, ma li scopriamo anche muoversi in questo lavoro di ricerca di fonti di ispirazione dalle carte stampate, per usare la parola del titolo di Ceretti, li vediamo anche muoversi su un arco cronologico molto ampio, cioè citare nei loro dipinti incisioni che a volte sono incisioni di poco precedenti all'epoca di esecuzione delle loro opere, ma in altri casi sono incisioni di addirittura un secolo, un secolo e mezzo antecedenti. C'è una ragione anche molto oggettiva che spiega questo. I pittori di primo 500, quelle che abbiamo appena visto, in qualche modo avevano un materiale, la circolazione dei modelli a stampa era iniziata da poco, quindi le stampe erano tutte più o meno recenti. I pittori del 600 hanno alle loro spalle una tradizione ormai di quasi 150 anni di immagini a stampa, quindi hanno un repertorio che ha una, diciamo così, estensione temporale molto varia, molto ampia, all'interno della quale non si fanno scrupolo di pescare appunto senza farsi troppi problemi sulla data di esecuzione delle opere, sulla cultura nella quale sono nate le opere dalle quali prendono ispirazione. E appunto l'esempio che volevo fare, prima di dare la parola a Francesco, è un esempio che mi ha molto colpito, una cosa di cui si è accorto lui appunto facendo questa ricognizione, diciamo così, ad ampio spettro geografico. Questo è un dipinto molto affascinante di Orazio Borgiani, un pittore che non sappiamo ancora se sia toscano o romano, è un artista attivo appunto tra Cinque e Seicento e un artista che trascorse i suoi anni giovanili in Spagna, no? In Spagna alla fine del Cinquecento Orazio Borgiani è attivo in Spagna e tra le opere che si collocano in questo periodo spagnolo si figura anche questo riposo nella fuga in Egitto che si trova appunto in questo piccolo museo dell'Andalusia, Haen, appunto il museo provinciale di Haen. È un dipinto appunto databile intorno al 1600, è un dipinto che come tutte queste opere giovanili di Borgiani, poi Borgiani tornerà a Roma e diventerà uno dei seguaci più intelligenti di Caravaggio, ma qui è una fase ancora precedente, dicevo come in tutte queste opere giovanili di Borgiani, Borgiani si dimostra un pittore di una freschezza di tocco straordinaria, in qualche modo pittore sì che eredita il magistero pittorico dei grandi artisti veneziani, Tiziano, Bassano, Tintoretto, ma in qualche modo già apre al barocco. Sono opere queste davvero protobarocche, proprio in questo loro carattere così di pensieri veloci messi sulla tela. La cosa incredibile è che questo dipinto così protobarocco, così aperto verso gli esiti successivi della pittura secentesca, in realtà si rivela nel brano della Madonna col bambino puntualmente derivato da un modello di Mantegna. Vedete che qui il confronto non ammette discussioni, è un'incisione di Mantegna, 1470, che Borgiani in qualche modo utilizza all'interno del proprio dipinto. è una cosa impensabile, perché è un dipinto aperto verso il barocco che trae ispirazione per la figura centrale da un artista che certo di Mantegna si può dire tutto, ma non che sia un artista che può aver ispirato i grandi maestri del barocco. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che nel corso del Seicento appunto questo rapporto con le stampe, come emerge molto bene da questo libro, poi si gioca su molti terreni, con molte varianti, all'interno delle quali molto spesso la questione dello stile non interferisce in modo evidente. Quindi gli artisti che accumulano nei loro studi questi materiali grafici così sovrabbondanti a volte utilizzano le stampe come una fonte di ispirazione che poi non condiziona gli esiti stilistici delle loro opere. Non possiamo certo definire il dipinto di Borgianni mantegnesco e quindi c'è questo utilizzo molto spergiudicato e da questo punto di vista Genovesino è proprio un campione, un campione perché davvero nelle sue opere, addirittura all'interno della stessa opera, noi scopriamo riferimenti da fonti figurative, da modelli incisori tra loro profondamente diversi. Ma a questo punto però mi taccio e do la parola a Francesco Ceretti perché si faccio entrare più concretamente nel cuore della sua ricerca. Eccoci qua. Allora, spostandoci a questo punto al protagonista della nostra serata, Genovesino, è vero che appunto nel Cinquecento e a Cremona l'utilizzo delle stampe era un fenomeno molto diffuso, però Genovesino fin dal nome ci deve ricondurre alla sua terra d'origine, quindi la Liguria, probabilmente il contesto genovese. E' interessante notare come, diciamo in contiguità a quello che abbiamo appena visto, anche a Genova c'era un fenomeno di utilizzo di incisioni molto diffuso e documentato. Era un fatto noto dalla critica, dalla critica anche contemporanea possiamo dire agli artisti di cui andremo brevemente a trattare. Raffaele Soprani, nelle sue vite, nelle vite appunto dei pittori, scultori, architetti genovesi, racconta un episodio piuttosto divertente ma molto interessante da cui la mia ricerca un po' è partita. E' un passo che vale la pena di essere letto e commentato molto brevemente, che ci permette proprio di entrare però in quello che era il contesto in cui Genovesino probabilmente anche si formò. Avendo dunque una mattina i due giovani studiosi, Raffaele Soprani sta parlando di Ottavio Semino, sta parlando della vita di Luca e Ottavio Semino e in questo caso di Luca Cambiaso anche, che era in questa circostanza insieme a Ottavio Semino alla Ripa, ai portici di Genova dove i due giovani studiosi nei giorni di festa si sollevano recare, qui si sollevano vendere nella Ripa le carte stampate in rame e in legno e vi accorrevano molti sì per vedere in essi la perfezione dell'intaglio che in quei tempi per l'industria di Marco Antonio Bolognese, Marco Antonio Raimondi era giunta al colmo, come anche per contemplarvi il compendio di molte nobili fatiche di uomini celebri quali erano Raffaele Durbino, Michelangelo, Francesco Parmigiano, Andrea del Sarto e altri gloriosi fondatori del buon disegno. Quindi innanzitutto qui è interessante notare come c'era questa pratica, diciamo nei giorni di festa, dove gli artisti la domenica andavano in questa zona che è tuttora esistente e porticata a Genova, lungo il porto e c'erano allestite queste bancarelle dove venivano vendute anche le incisioni, sia incisioni in rame, quindi calcografiche, che incisioni xilografiche sul legno. E gli artisti si andavano non tanto per vedere la perfezione dell'intaglio, quindi la qualità artistica, stilistica di questi prodotti, ma per vedere quelle che erano le opere, le molte nobili fatiche di uomini celebri. Quindi per aggiornarsi, per confrontarsi con quelle che era la maniera di Raffaello, Michelangelo, Francesco Parmigiano e Andrea del Sarto. Dopodiché c'è un episodio interessante che documenta Soprani perché dice che giunsero pertanto Ottavio e Luca alla vista di esse, sempre dalle stampe stiamo parlando, e avendo trovato negli stesso luogo Prindelvaga, dopo vicendevoli e cortesi saluti si accostarono a lui, e con quella curiosità che suolesse al proprio dei giovani, li interrogarono di molte cose spettanti al disegno, secondo che le stampi stesse in quell'istante ne porgevano loro l'occasione. Quindi il fatto interessante è che Raffaello Soprani ci dice che in queste circostanze, in questo contesto, quindi in questi banchetti di stampe, non soltanto i due giovani studiosi, quindi artisti in fase formativa ancora che si approcciavano all'utilizzo delle stampe per fare accademia, quindi per impratichirsi, per replicare il ductus incisorio facendone poi un disegno, ma c'erano anche artisti che erano dei campioni indiscussi, come ad esempio Prindelvaga, che era un artista che si era mosso al seguito di Raffaello, quindi uno dei più importanti artisti della scena del Cinquecento italiano. E in questo diventa occasione per i due giovani studiosi, quindi Ottavio Seminio e Luca Cambiaso, di discutere, di confrontarsi, partendo da quello che era il contesto, il testo offerto da un'immagine, di discutere del mezzo che veicolava all'immagine, il disegno, che di fatto l'incisione non è altro che un disegno fatto su rame. E quindi la possibilità di avere libero accesso a queste carte stampate, la possibilità di frequentare questi luoghi che a loro volta erano frequentati da artisti di primo ordine, era sicuramente un'occasione che due giovani studiosi, e in generale gli artisti genovesi in fase di formazione, non potevano perdere. In queste circostanze Luca Cambiaso, a sua volta fu maestro, ebbe una solida bottega, e come poi sequela troviamo un altro personaggio importante che è Giovanni Battista Paggi, che a sua volta allestì, nella Genova del primo Seicento, un'importantissima bottega, una vera e propria accademia. In questa accademia si forma un artista, si chiama Sinibaldo Scorza, e sempre Raffaele Soprani ci informa riguardo ai metodi di studio e di formazione che gli studiosi, gli allievi nella Accademia di Paggi utilizzavano. Sinibaldo Scorza cominciò, con tal diligenza, a contrafar di penna le stampe del durero, le stampe di Albrecht Dürer, tanto che non era possibile distinguere per altra strada le fatte di penna dalle stampate. Quindi diciamo che l'approccio alle incisioni nel contesto genovese era un qualcosa di imprescindibile, a tal punto che era quasi impossibile riuscire a distinguere quali erano le incisioni vere e quelle invece quali erano i disegni fatti a penna che appunto fatti a inchiostos assomigliavano alle incisioni di Dürer. Ora Raffaele Soprani è una fonte imprescindibile ma potrebbe diciamo essere anche una fonte errata per certi punti di vista, quindi la cosa anche metodologica più importante da fare è andare a verificare nelle opere di Sinebaldo Scorza. E qui abbiamo una bellissima opera di Sinebaldo Scorza, un'opera della sua maturità, si data all'inizio del 1630 e si trova appunto in questa collezione privata genovese la figura Orfeo che incanta gli animali. Sinebaldo Scorza è stato uno dei più importanti animalisti, pittori di animali nel panorama figurativo genovese e probabilmente abbia anche un ruolo importante come compagno di viaggio nella formazione di genovesino. E noi guardiamo attentamente in questo zoo che popola questa scena, vedete che il leone che si approccia da destra nel dipinto che sta al centro è stato prelevato proprio quasi di peso e inserito all'interno della tela da Sinebaldo Scorza servendosi di un'incisione realizzata a bulino da Brick Dürer che raffigura il cosiddetto sole giustizia, il sole della giustizia che sta cavalcando, diciamo si sta sedendo su un leone. E quindi questo fatto è interessante di come Sinebaldo Scorza che era un artista comunque solito di formazione appunto animalista che era solito realizzare animali che comunque rendesse omaggio per così dire forse proprio per la sua deformazione professionale da come appunto si era formato utilizzando incisioni servendosi di incisioni di Dürer per inserirle all'interno delle sue opere. Il fatto interessante però è che al di là di rendere omaggio a artisti del passato Sinebaldo Scorza e come lui tanti altri anche utilizzano, si confrontano, utilizzano le incisioni come mezzo proprio di aggiornamento, di confronto anche diciamo immagini, contesti figurativi che potrebbero essere distanti dal loro contesto geografico di appartenenza e si confrontano anche con opere quindi contemporanee. In questo caso vedete un confronto a sinistra questo cartoncino di Sinebaldo Scorza realizzato per un presepe di cartone dipinto e appunto questo mendicante col cane si date intorno alla metà degli anni 20 del 600 è stato prelevato, derivato in maniera puntuale ma speculare quindi siamo diciamo in controparte rispetto all'incisione di partenza da una delle acque forti di Jacques Calot che è possiamo dire il campione della produzione incisoria di primo 600 che inizia a dare importanza a quelle che sono certe tematiche di serie B della pittura del contesto figurativo contemporaneo. Inizia a ritrarre, a riproporre tramite il mezzo incisorio tutta una serie di mendicanti, di accattoni, di viandanti, di pitocchi, di poveri che nello spazio dell'incisione acquisiscono la propria autonomia e indipendenza figurativa. Questa serie di incisioni che è una serie notissima che viene pubblicata diciamo intorno al 1622 dopo questa esperienza che Jacques Calot svolge a Firenze, quindi una volta che Calot rientra in patria a Nancy, dal a stampa questa serie che lui chiama la serie dei baroni nel senso degli imbroglioni, dei mendicanti, degli accattoni e che comunemente dalla critica viene chiamata la serie delle jeux. Vedete che qui il primo diciamo il nome poi italianizzato dei baroni gli viene dato da questo primo pitocco sulla destra che porta sulle spalle un vessillo insomma un po' stropicciato, uno straccio con scritto capitano dei baroni. Era lui che guidava questa comitiva un po' sgangherata che al di là di Siniballo Scorza aveva solleticato l'interesse di tutta un'altra serie di artisti, Gionovesino compreso, ma in questo caso il confronto che vi propongo è con un'opera di Giovanni Battista Carlone, un artista genovese contemporaneo di Genovesino che nasce anche lui all'inizio del 600 e questa è un'opera che si colloca intorno alla metà degli anni 40 e che appunto è stata chiamata la compagnia dei baroni. Vedete come ogni personaggio della scena sia stato prelevato in maniera puntuale e spregiudicata da quelle che sono appunto questa serie di acqueforti di Jacques Calot. Quindi il capitano dei baroni che lui pure inserisce che poi dà il titolo anche al quadro di Battista Carlone sulla destra, poi vedete questa figura che fa capolino dietro al mendicante con le stampelle, poi vedete i due pellegrini, la madre con i tre bambini, ancora il mendicante cieco col cane che era la stessa incisione utilizzata anche da Siniballo Scorza. Ecco tutto questo utilizzo però massiccio, costante di incisioni doveva essere in qualche maniera anche giustificato dalla critica perché al tempo non tutti vedevano di buon occhio questa pratica. Per esempio un altro artista sempre genovese, Pellegro Piola, un artista sempre contemporaneo di genovesino, era additato da un gruppo di suoi artisti rivali di esser scarso di invenzioni e perciò solito a specchiarsi nelle stampe dei maestri migliori e lui rispondeva prudentemente sopportando la calunnia degli uni e il beffeggiare degli altri che invece di accusarlo imparassero anch'essi a condir col sale delle stampe le insipidezze del loro tavole. Queste sono parole a mio avviso meravigliose che danno modo di capire come l'utilizzo delle incisioni e poteva essere diversificato. C'erano i beceri copisti ma c'erano invece anche coloro che sapevano reinventare o inventare copiando come fa ad esempio genovesino. Questo però ci dà anche un modo di capire che non tutti i contemporanei erano felici nel comprendere che pittori contemporanei utilizzassero le incisioni e questo perché spesso e tuttora capita che la critica lo legge come una sorta di elemento che vada quasi a detrimento dalla qualità inventiva del pittore. Un pittore che utilizza un modello è un pittore che allora è un pittore che quasi scade. In realtà no perché c'è sempre modo e modo di copiare. Anche perché come sempre Soprani ci dice poco valsero contro di lui le maldicenze perché attendendo egli a benoprare s'acquistò gran nome nella pittura col mezzo di molte tavole fatte d'ordine di molti signori. Quindi alla fine della fiera quello che conta è sempre la qualità. Un'opera di qualità si distingue sempre da un'opera di qualità minore nel momento in cui anche c'è una derivazione da un'incisione e utilizzare le incisioni diciamo ci impone di ragionare anche su quali sono le modalità d'uso delle incisioni e il caso migliore per studiare questo fenomeno così particolare ma anche così frequente in realtà è proprio Genovesino. Genovesino nel corso della sua carriera utilizza una quantità sterminata di incisioni e una spia che Genovesino utilizzasse comunque si interessasse di incisione giunge anche dall'inventario post-mortem dei beni dove figurano circa 200 carte stampate in rame e in legno senza indicazioni di autore di paternità quindi ma c'è anche un'incisione una carta grande del Bonarrota quindi un'incisione un foglio grande che raffigurava un'opera un'invenzione di Michelangelo Bonarroti che forse poi che vedremo se poi coincide con quella dell'inventario e tutta un'altra serie di incisioni che raffiguravano delle vedute che probabilmente Genovesino utilizza per poi inserire all'interno delle sue opere. Il primo caso interessante è quello della derivazione per così dire puntuale dove appunto Genovesino utilizza un dettaglio oppure l'intera parte incisa dalla stampa e la riversa all'interno della sua opera. Il dipinto in questione che ci offre diciamo così il primo caso di analisi è forse l'opera più affascinante e più nota del pittore la suonatrice di Liuto che si conserva nei musei di Strada Nova a Palazzo Rosso a Genova un'opera della prima maturità del pittore un pittore circa trentenne e che raffigura questa fanciulla che sta arpeggiando lo strumento all'issotto di questo teschio che incombe su di lei questa sulla sinistra la quella che doveva essere una partitura tutta sgualcita bruciata e sul tavolo vedete i monili le collane gli anelli e lei appunto sta suonando e vuole essere in qualche maniera un'opera che riflette su quello che è lo scorrere del tempo su quella che è la tematica dell'incombere della morte anche su una fase giovanile della vita e qui però tutta questa diciamo componente da un certo punto di vista suggestiva iconografica e stilistica non ci deve far diciamo togliere l'attenzione da quelle che sono una componente un po come dire capziosa che si può cogliere nella nella diteggiatura della mano delle mani della fanciulla perché se guardate attentamente vedete come la nell'invenzione nella o meglio nella reinvenzione della del dettaglio delle mani che sono posizionate sulla cordiera e sulla tastiera dello strumento genovesino ha utilizzato un'incisione di andrit golcius questo grande incisore olandese che raffigura una musa tersicore quindi probabilmente genovesino dovendo fare cercando di entrare nella logica mentale di questo pittore un po inafferrabile probabilmente dovendo realizzare una figura muliebre una fanciulla che suonava uno strumento è andato in un contesto simile a quelle che erano i banchi della ripa forse a piacenza forse a cremona dove il pittore si era trasferito e ha cercato di poter inquadrare quello che era un soggetto che il più si avvicinasse a quello che doveva raffigurare e quindi ecco che vedete come è indiscutibile il dettaglio delle mani posizionate sullo strumento siano prelevate proprio di peso e messe all'interno del dipinto è un dettaglio però che non si nota genovesino sa copiare reinventando in maniera molto raffinata come dicevo quindi utilizzare un modello in maniera puntuale quindi in maniera assoluta sia per quanto riguarda un dettaglio che per quanto riguarda invece l'intero e il secondo la seconda circostanza è offerta da questo dipinto della probabilmente un primo dipinto che genovesino realizza arrivato a cremona la prima opera datata cronologicamente collocabile realizzata dal pittore 1639 raffigura la sacra famiglia e si trova attualmente nella collezione della fondazione gazzola di piacenza quindi un dipinto forse realizzato da genovesino ancora per una committenza piacentina però già a cremona e vedete questo dipinto un po domestico con quest'aria molto di intima questa bambino che sta svolgendo i suoi primi passi sta raggiungendo la madre sotto l'attenzione di giuseppe un po pollaiato sul bastone con i due coniglietti sulla sinistra la culla sulla destra ecco tutta questa poesia e in qualche maniera poi diciamo deve fare i conti con ancora una volta il modello che si trova a base a monte di questo di questo dipinto che è una acquaforte realizzata nel 1614 da raffaello schiaminossi questo incisore di borgo sansepolcro che utilizza un modello di luca cambiaso quindi in questo caso capire le ragioni che portarono genovesino all'utilizzo di un modello sono sostanzialmente impossibili se non ipotizzare una sorta di omaggio a un maestro della della sua terra natale eppure appunto genovesino vedete ancora una volta riesce a divincolarsi quasi dal modello perché mai avremmo immaginato che il pittore in questa scena avesse utilizzato un modello poi una volta che si ha di fronte all'immagine è indiscutibile la modalità con cui il bambino muove i suoi primi passi la stessa presenza della culla sulla destra la stessa tipologia proprio disegnativa della 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 sedia la figura del san giuseppe così schiacciato sul sul bastone sono tutti elementi che insomma ci portano a ancora una volta fare i conti con con questo con questo modello genovesino utilizza poi quindi modelli in maniera molto disparata abbiamo visto modelli da di artisti di fine 500 primo 600 e anche lui non poteva in qualche maniera esimersi da un confronto con albrecht durer in questo caso vediamo qui un dipinto realizzato ormai nella maturità del pittore un'opera meravigliosa per questa capacità di declinare su diciamo di giocare con tutta la declinazione delle gambe dei rossi dal mattone al vermiglio al cardinale all'arancione la capacità di genovesino di saper restituire le componenti materiali sia quelle dei degli abiti sia quelle del del paiolo e del della brocca di questa grande brocca di rame ecco però ancora una volta il pittore nell'invenzione della scena utilizza o meglio reinventa l'incisione di albrecht durer in questo caso l'ultima cena è un'incisione realizzata per la serie non della piccola passione ma della grande passione questa serie che albrecht durer inizia a realizzare subito dopo aver diciamo realizzato quella della piccola passione e vedete che anche qui la derivazione è insindacabile i diversi protagonisti sono prelevati in maniera precisa precisa dall'incisione la figura di giuda che stringe la sacchetta dei 30 denari è riportata proprio di peso all'interno della scena così la modalità di impaginare anche i diversi apostoli genovesino semplicemente adatta al formato orizzontale del dipinto quella che era un'incisione invece sviluppata in verticale qui il dettaglio è quadrato ma in originale la l'incisione è sviluppata in verticale quindi ancora una volta si potrebbe dire che il pittore si si limita semplicemente a copiare e invece no perché vedete che qui accanto alla figura di giuda c'è un dettaglio molto interessante che è il demonio che sta incatenando i piedi di giuda a sé e è un dettaglio che insomma non può passare inosservato e che nell'incisione di durer manca totalmente e qui è tutto frutto della mente geniale di genovesino che riesce a diciamo dare una visione dare un'immagine concreta ad un passo del vangelo di giovanni che dice che appunto in giuda e allora dopo quel boccone entrò in lui satana e quindi qui genovesino si da una parte ha gli occhi sul modello di durer ma dall'altra diciamo l'indice sul vangelo di giovanni e dice adesso metto metto satana che incatena giuda quindi è un pittore che non va mai semplicisticamente definito un copista perché riesce sempre a con una trovata a smarcarsi in maniera geniale dal dal modello questo utilizzo delle incisioni genovesino lo farà anche all'interno di dipinti con una destinazione veramente chiesastica perché finora abbiamo visto dipinti che possono essere sostanzialmente orientati in ambito privato compresa la sacra famiglia probabilmente realizzata per un oratorio per un oratorio privato piacentino ma anche per i dipinti realizzati per la destinazione chiesastica pubblica genovesino utilizza incisioni non si fa scrupoli qui vedete la decollazione di san paolo un'opera del 1642 e un dipinto datato che si trovava nella chiesa di san lorenzo a cremona ed ora invece ospitato nel museo civico alla funzione di cremona ed è un dipinto molto interessante perché al di là di questa componente così un po tra barocco e naturalismo sulla sinistra è firmato all'interno di una su una roccia qui penso che l'immagine sia sostanzialmente illegibile quindi andate un po sulla fiducia genovesino si firma quindi nome cognome data e poi scrive ex centensis invenzione adulterata quindi da un'invenzione adulterata modificata del centese questo centese chi è? è il guercino è appunto uno dei campioni indiscussi della pittura emiliana barocca Giovanni Francesco Barbieri appunto detto il guercino per questo segno che lo contraddistingueva in quanto era sguercio ed è un'artista che realizza una pala con una decollazione di San Giacomo nel suo periodo piacentino nel 1627 e una pala che per oggi uno vecino forse vede forse non vede perché viene realizzata sia a Piacenza ma era destinata alla chiesa dei santi Prospero di San Pietro e Prospero di Reggio Emilia fatto interessante però quindi che poteva facilitare la visione dell'opera da parte di Genovesino che il dipinto di Guercino è stato inciso in controparte dal suo fedele incisore che era Giovanni Battista Pasqualini un artista che si muoveva fondamentalmente al seguito di Guercino sia nei suoi spostamenti geografici che nell'immediata riproduzione su rame tramite il mezzo del bulino delle sue opere in questo caso appunto vedete in qualche maniera fotografata nell'incisione di Giovanni Battista Pasqualini un'opera di Guercino che ora è perduta e il fatto interessante è che però se vogliamo andare a fondo alla vicenda e dire Genovesino accoppiato dall'incisione o accoppiato dal dipinto non possiamo avere certezza assoluta fatto sta che rispetto diciamo nella pratica operativa di questo incisore Giovanni Battista Pasqualini tutte le sue incisioni riproducono in controparte quindi in maniera speculare è l'opera di Guercino quindi se per dire in questa incisione il San Giacomo sta guardando a sinistra e ginocchiato appunto con i piedi a destra nel dipinto originale di Guercino che ricordo è perduto quindi non possiamo verificarlo ma in tutte le altre derivazioni da parte di Pasqualini è così il dipinto sarebbe stato al contrario quindi San Giacomo guardava a destra i piedi erano a sinistra in questo caso quindi allora Genovesino è molto probabile che abbia derivato totalmente ovviamente questo dettaglio così carico di patos dall'incisione di Giovanni Battista Pasqualini sia per quanto riguarda lo sgherro che per quanto riguarda poi la figura del martire che ha un po' modificato ha spogliato di questo drappo e che appunto ha come dire con questo volto rivolto verso il basso ormai consapevole di quello che è l'imminente morte e la componente anche qui Genovesino riesce a smarcarsi dal modello perché ha dato un accento naturalistico in più rispetto a quella che è la componente più barocca dell'opera di Guercino mediata dall'incisione di Pasqualini in quanto ha spogliato vedete questo sgherro ed ci figura con il petto con il torso completamente nudo Genovesino in questo caso abbiamo visto sempre citazioni uno a uno un'opera pittorica e un'incisione di riferimento ma poi diciamo si si fa venire il mal di testa se si vuole approfondire la questione perché in un dipinto come questo sembra quasi una scena di teatro un dipinto meraviglioso di Genovesino una strage degli innocenti datata a 1647 in una collezione privata dove vedete la capacità di Genovesino di saper raccontare quella che doveva essere il caos di questa scena quindi sulla destra l'attenzione anche ai dettagli con questa la presenza la fissione della grida con cui Erode aveva indetto l'uccisione di tutti i nati che Genovesino attacca attacca la parete e poi questo dettaglio un po' splatter ma che merita eccolo qui vedete questo la materia cerebrale che sta uscendo dalla testa del bambino la donna che ha perso la ciabatta insomma c'è molta frenesia in questa scena quindi Genovesino effettivamente è un pittore straordinario ma che anche in un'opera del genere non vuole in qualche maniera venire meno alla sua propensione per l'utilizzo dell'incisione e qui si diverte in maniera veramente assidua e vedete che ci sono diversi prestiti dal repertorio delle incisioni e qui ve ne ho selezionati solo quattro sono molti di più ma la cosa interessante è che sono tutti prestiti dal repertorio del manierismo tutti prestiti che fanno capo a dei modelli manieristi il primo forse il più riconoscibile è il cavallone rampante che deriva da una derivazione a stampa dalla battaglia di Ponte Milvio delle stanze di Raffaello qui mediata dall'incisione di Giovanni Battista dei Cavalieri a sinistra ancora Giovanni Battista dei Cavalieri che incide un disegno di Francesco Salviati sempre con la strage degli innocenti al centro al centro vedete invece spostiamo verso il manierismo di campo più internazionale è un pinto di Martin von Imskerk che viene inciso da questo Dirk Volkerz Cornert non scioglio lingua con anche qui una strage degli innocenti per quanto riguarda lo sgherro al centro del dipinto vedete proprio viene quasi riproposto un po' la scansione anatomica del soggetto e poi questo dettaglio molto raffinato che Genovesino preleva sempre da una strage degli innocenti realizzata da Marco Dente da un disegno di Baccio Bandinelli questo grande scultore fiorentino e vedete che qui proprio il dettaglio dello sgherro che sta caricando quasi sta estraendo dal fodero la sciabola per poi far mattanza dei bambini è proprio preso in maniera molto puntuale dall'incisione di Marco Dente da Baccio Bandinelli ecco sono a parte quella in alto a sinistra sono tutte derivazioni da però tematiche che sono accostanti rispetto al dipinto di Genovesino sono tutte strage degli innocenti e quindi anche qui possiamo immaginare volendo provare ad entrare nella bottega di Genovesino capire come lavorava e dovendo fare una strage degli innocenti proviamo a vedere prima di me che cosa hanno fatto gli altri e selezionare quelli che erano i dettagli che più gli piacevano per poi reinventarli totalmente anche all'interno del del dipinto perché poi la capacità di Genovesino è che tutto questo è molto armonico non vediamo gli elementi quasi isolati tutto questo è inserito in maniera molto come dire in un dialogo continuo non ci sono i personaggi tagliati come delle figurine che noi possiamo riconoscere ci fosse una derivazione è solo diciamo un po' un lavoro fatto a posteriori anche sulla base di queste suggestioni che vengono dagli inventari che lui possedeva queste incisioni modelli del manierismo che sono alla base anche di un'opera della piena maturità dell'artista qual è appunto il San Girolamo nel deserto del Museo Borgogna di Vercelli già nella Santissima Annunciata di Vercelli ed è un dipinto appunto vedete con queste componenti da un lato molto barocca da un lato molto naturalista che mai ci farebbe credere che al di sotto abbia un modello del manierismo ed è un manierismo serio si tratta di Michelangelo Buonarotti vedete come la figura centrale dell'incisione nominata il sogno di Michelangelo qui incisa da Michele Lucchese sia di fatto poi il punto di partenza sono anche il punto d'arrivo del dipinto realizzato da Genovesino e in questo caso è forse proprio questa la carta grande del Buonarrota che Genovesino possedeva all'interno della sua bottega in quanto di fatto è a quello che possiamo ora sapere l'unico prestito diciamo indubitabile in equivoco da il catalogo di Michelangelo Buonarrotti un dipinto che ci fa capire come Genovesino fosse proprio un accanito appassionato di incisioni perché qui non ci sono legami in maniera tematicamente stringente fra il dipinto con un San Girolamo e invece questo nudo all'interno dell'incisione di Michelangelo il dipinto di Genovesino è un dipinto chiesastico un dipinto con un tema sacro l'incisione di Michelangelo è un'incisione con un tema profano volendo diciamo tirarla un po' per i capelli vedete che l'incisione con il sogno della vita umana raffigura questo personaggio che siede in maniera un po' instabile al di sopra di una scatola piena di maschere che sono le maschere che nella quotidianità ogni individuo indossa appoggiandosi a questa palla che è simbolo di instabilità l'instabilità della vita questo nudo che viene assalito da tutti i vizi dalla lossurria l'acidia la gola che sono rappresentati sullo sfondo e viene destato dall'arrivo di questo nunzio alato quindi come diciamo in questa incisione anche Genovesino di fatto risveglia il San Girolamo che si era ritirato nel deserto con l'annuncio dell'apocalisse da parte di questo angioletto di fatto però anche se questo è il legame che vogliamo vedere fra i due dipinti Genovesino riesce a reinventare completamente l'incisione di riferimento a smarcarsi totalmente dal modello e a reinventarlo comunque in chiave barocca e seicentesca il modello è sì un modello cinquecentesco ma come anche negli altri casi che abbiamo visto nella strage degli innocenti Genovesino reinventa totalmente la scena e la porta per così dire in uno stile accostante a quello che doveva essere invece lo stile seicentesco in questo diciamo poi così dire girone di decisioni Genovesino poi si confronta anche con artisti a lui contemporanei c'è Jacques Allot in una serie di dipinti in un altro dipinto dove ci sono almeno 17 prelevazioni dal catalogo di Jacques Allot che raffigura questa veduta fantastica del porto di Genova dove Genovesino dice ex invenzione adulterata senza dire in questo caso chi è l'inventore e oltre a Jacques Allot nel catalogo di Genovesino un nome contemporaneo che troviamo è José Pederibera lo spagnoletto uno dei più diciamo intelligenti interpreti del magistero caravaggesco e in questo caso vedete un dipinto di Genovesino un martirio di San Bartolomeo un dipinto che è transitato ormai 30 anni fa per un'asta viennese quindi è di ubicazione ignota passato con questo riferimento a Francesco Cairo altro grande interprete della pittura naturalista barocca del del seicento Lombardo invece è un'opera che spetta pieno titolo da un punto di vista stilistico a Genovesino da un punto di vista stilistico ma anche da un punto di vista proprio operativo inventivo metodologico della creazione perché il dipinto è di fatto puntualmente citato da una invenzione di questo Josepe de Ribera è un'incisione un'acquaforte poi rifinita a bulino dall'artista realizzata nel 1624 per il principe Filiberto il nipote di Filippo II vicere di Sicilia quindi un'incisione proprio concepita da un artista che era anche un grandissimo pittore e in questo caso invece destina una sua una sua invenzione proprio al mezzo incisorio vedete come Genovesino in questo caso abbia di fatto carpito tutto quello che è la scena principale così cruda dell'incisione l'abbia poi tradotta da un poterista pittorico è un dipinto che forse può essere appunto avvicinato a quella figura importante che era nel panorama politico di Cremona ovvero Don Alvaro De Quignones grande committente collezionista anche di opere di Genovesino in quanto nel suo inventario dei beni post-mortem dove appunto è stilato con elenco dei quadri senza purtroppo specificare però né autore né dimensioni figura proprio un martirio di San Bartolomeo e il confronto con il magistero di Oseppe de Ribera poi ci porta anche a quello che è diciamo la seconda casistica cioè quando Genovesino si rapporta alle incisioni traendo suggestioni traendo riferimenti formali ma che non diventano mai derivazioni puntuali è il caso ad esempio del San Girolamo nello studio nella Basilica di San Martino e Santa Maria Assunta a Treviglio un'opera del 1646 dove vedete ancora qui la prepotenza naturalistica che trappela da questo dipinto quindi da quello che è poi il pennello di Genovesino però è un'opera che non può esimersi a un confronto con un'altra invenzione di Genovesino di Oseppe de Ribera che è appunto un San Girolamo San Girolamo anche lui con questo studio un po' di fortuna ricavato in un antro con questo drappo che fa un po' da protagonista il leone che fa capolino sulla sinistra e poi soprattutto anche la articolazione anatomica del personaggio con questa posizione un po' improbabile questa gestualità così evidente lo sguardo accatturato dall'arrivo di quello che dovrebbe essere un nunzio in realtà qui è un puttino che però fa spaventare il San Girolamo e infatti va fatto notare il dettaglio meraviglioso degli occhiali che per l'arrivo di questo puttino trombettino ci sono gli occhiali che cascato tutto questo comunque per dire la qualità sempre dell'invenzione di Genovegino che pur rapportandosi a un modello riesce sempre in qualche maniera anche a smarcarsi e avviandomi a concludere abbiamo l'ultima casistica questo diciamo dell'utilizzo delle incisioni come riferimento iconografico è anche formale però che non scade mai nella o meglio non arriva mai nella quella che è la derivazione puntuale è la seconda casistica e ce ne sarebbero molti altri di esempi ma proprio uno di questi ci conduce in quella che è anche la terza categoria di prestiti che sono soprattutto prestiti e riferimenti di ambito tematico di ambito iconografico dove Gionovesino ragiona soprattutto in un gruppo di opere che si possono raccogliere attorno al tema della vanitas quindi a quello che è lo scorrere del tempo l'incombere della morte e confrontandosi proprio diciamo traendo spunto dalle incisioni in questo caso vedete questo cupido che sta dormendo un bambino dormiente su un teschio con dietro di lui la clessidra a scandire lo scorrere del tempo e qui sulla destra invece un modello a stampa di Bartel Beham questo incisore tedesco che raffigura anche qui un cupidino dormiente un puttino dormiente in un bulino di cent'anni prima e anche qui vedete come di fatto la derivazione non sia puntuale ma è quasi in dubbio che Gionovesino si sia confrontato con questo materiale con per quanto riguarda questa posa un po' scosciata del bambino che sta soprattutto dormendo appoggiandosi ad un teschio e questa poi diciamo questo aspetto troverà poi la sua più grande esplicitazione in una delle altre opere più note di Gionovesino insieme forse alla suonatrice di Liuto di Genova che è il cupido dormiente della pinacoteca di Cremona e qui vedete appunto questo bambino che è un cupido e tiene in mano quella che è una freccia seduto su un libro appoggiandosi a un teschio e anche qui il riferimento va a tutta quella tradizione iconografica tedesca e diciamo nord europea quindi anche olandese che molto aveva riflettuto sul tema dello scorrere del tempo e dell'incombere della morte e in questa circostanza un buon confronto puntuali non ve ne sono perché appunto Gionovesino trae sostanzialmente spunto iconografico per quanto riguarda il tema l'immagine vedete un bambino seduto anche qui che si appoggia ad un teschio ecco con questa diapositiva questo confronto diciamo abbiamo un po' concluso quello che è il percorso di Gionovesino in questo confronto serrato questo rapporto di avere dal mondo delle incisioni che però non ci fa mai dubitare della sua altissima qualità e della sua grandissima capacità di inventare copiando quindi grazie 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 mille a Francesco Ceretti per questa serie di confronti così che ci hanno riempito di suggestioni e adesso chiedo se c'è qualcuno del pubblico che vuole far domande che ha diciamo così curiosità da evadere per uccitare anche l'immagine che stiamo vedendo forse per rompere gli altri una cosa che mi ha sempre colpito in tutto questo lavoro che ha fatto Ceretti su Gionovesino è questo tema diciamo ci sono questi dipinti in cui lui dichiara esplicitamente che ha tratto spunto da un'invenzione adulterandola la la recapitazione di San Paolo e anche la veduta di Genova e lì c'è un po' un nodo forse cruciale cioè nel senso che se noi analizziamo come la storiografia del tempo la storiografia secentesca si poneva nei confronti di questi artisti che copiavano le stampe vediamo che c'è una posizione un po' ondivaca da una parte c'è il caso appunto di Pelle Gropiola che viene così additato dai suoi contemporanei come un pittore senza capacità inventive perché copia dalle stampe e dall'altra parte però c'è un artista come Genovesino che non si fa scrupolo a dichiarare che sta copiando da un'invenzione altrui e quindi questo ci fa capire come diciamo così poi non ci fosse una posizione in fin dei conti univoca del mondo dell'arte per così dire della cultura artistica di quegli anni anche in un contesto vicino perché ci muoviamo appunto tra Genova e Cremona tra Genova e la Lombardia su questa pratica in fin dei conti se questa pratica come sembra emergere dal passo di soprani riferito a Pelle Gropiola fosse stata così invisa dal mondo artistico Genovesino avrebbe cercato di non dichiararla e forse quella quella quelle diciture appunto che lui mette accanto alla firma ci fa capire come in alcuni casi invece ricorrere a grandi modelli fosse in qualche modo quasi un attestato di una capacità di confrontarsi con fonti prestigiosi perché lui dice mi sono confrontato con Guercino cambiandolo però in qualche modo come dire io sono degno in qualche modo di replicare un'invenzione di uno dei più grandi artisti miei contemporanei una delle tematiche interessanti mi sembra proprio quella capire cioè questo libro riesce a mettere a fuoco come appunto questa appunto abbiamo scelto questo titolo che è un po' uno simano inventare copiando come in qualche modo si potesse anche copiare senza che questo diventasse però un'onta diventasse un segno diciamo così di negativo nella percezione che gli artisti avevano che gli artisti diciamo così tramandavano di sé insomma però appunto diteci se ci sono cose che vi sono venute in mente prego ma guardando tutta l'opera dell'artista questa questa tecnica diciamo della della coppia che si rifà con in realtà recopiando è preponderante oppure è semplicemente un bandinale e poi una seconda domanda che è collegata anche a qualche di certi distorsanti cioè chi è un'intenzione per esempio i tremonesi che affidavano a tenere di noti di quadri erano consapevoli si sa se fossero consapevoli di questa epica oppure pensavano a un'intenzione origine completamente originale Allora preponderante non lo so ma una costante sicuramente sì che è una mezza risposta nel senso che su tutti i dipinti il dubbio è che ci sia si nasconda da qualche parte soprattutto in quelli più popolati una derivazione nel libro ho identificato 36 37 dipinti con derivazioni il catalogo di Genovesino non è molto più vasto quindi possiamo dire che una buona parte delle opere almeno la metà delle opere di Genovesino hanno una derivazione identificata e poi un po' insomma questo lavoro è un lavoro anche che dovrebbe essere di equip quindi la palla la passo anche a qualcun altro però sì è proprio una costante sulla seconda domanda su cui poi potrà forse dire qualcosa di più il professore nel caso in cui nel caso che abbiamo visto in precedenza quello del martirio di San Bartolomeo forse il committente potrebbe avere esplicitamente richiesto una derivazione perché si tratta di un committente spagnolo sempre che dando per buona questa identificazione cioè che il martirio di San Bartolomeo che è emerso diciamo da questo mercato antiquario sia effettivamente quello all'interno della collezione di Donalbero De Quignones il committente è un castellano di origine spagnola che è nato in Castiglia a Leone si tratta di un modello di quello che era forse il più grande artista spagnolo del tempo Giuseppe De Ribera per quanto riguarda il naturalismo caravaggesco e quindi ipotizzando che la committenza spetti a Donalbero De Quignones possiamo dire che forse sia stato proprio Donalbero De Quignones a chiedere in questo caso in questa circostanza di derivare il modello così forse anche quando lì lo dichiara nel caso in cui lo dichiara è chiaro che vuol dire se anche i committenti non ne fossero stati consapevoli all'inizio lo erano alla fine perché quando vedevano il quadro con questo scritto ex invenzione adulterata per cui poi dopo è chiaro che non abbiamo una documentazione sufficiente per capire esattamente le dinamiche del rapporto tra pittore e committente in casi come questi perché il repertorio che è emerso da questa sequenza di immagini ci fa capire una serie anche di variabili nel rapporto con le stampe e ci sono casi come questo del rapporto con Ribera dove il rapporto è veramente molto integrale perché riguarda il soggetto riguarda sostanzialmente l'atteggiamento di tutti i protagonisti quindi qui è difficile immaginare che il collezionista sia o no Alvaro di Chignones che commissionò quest'opera o che acquisì quest'opera poi non fosse consapevole di questa derivazione però poi a fronte di dipinti dove appunto il rapporto con l'incisione è totalizzante per così dire poi ci sono appunto questi casi dove lui fa proprio una serie di diciamo di centone adesso la parola centone forse un po' diciamo non è diciamo così adatta alla qualità di Genovesino però dove mette insieme una serie tale di riferimenti da stampe diverse che diventa tutto impensabile che immaginare che i collezionisti fossero consapevoli dire proprio cioè noi dobbiamo immaginare proprio questi pittori che avevano nel loro studio questa serie molto cospicua appunto cioè l'inventario di Genovesino che documenta questa quantità notevole di carte stampate e queste carte stampate poi nella loro diciamo così una volta che erano diciamo così collezionate diciamo così radunate negli studi di questi artisti poi in qualche modo venivano a costituire un repertorio che per l'uniformità anche materiale si trattava sempre di fogli di carta diciamo monocloni incisi realizzati tutti con tecniche molto simili erano acquaforte erano burini a volte più raramente texilografie quindi erano materiale in qualche modo che tendeva un po' a neutralizzare le differenze di epoca e di provenienza geografica quindi gli artisti c'è un conto su un tavolo su un tavolo da lavoro all'interno dello studio tutte ridotte tra virgolette a dei fogli diciamo preziosi di carta che però erano poi dei prodotti grafici in qualche modo più confrontabili uno con l'altro per cui questa diciamo la mia sensazione a me è che questa pratica degli artisti seicenteschi di mettere insieme i riferimenti anche così in qualche modo incompatibili di uno con l'altro fosse in qualche modo anche sollecitata proprio dal fatto che le stampe favorivano in qualche modo questo assemblaggio questa contaminazione di opere che provenivano da culture e da epoche molto diverse tra loro diciamo che il succo di questo discorso è questa frase famosa che tutti citano ma di cui nessuno sa poi chi è è stato diciamo l'idiatore il primo a pronunciarla è quella che i mediocri coppiano e i geni rubano un po' il sintesi di questa vicenda una frase che diciamo si è pensato a lungo che fosse stata pronunciata da Pablo Picasso però non si è mai non si è mai trovato un testimone che abbia diciamo abbia diciamo così confermato questa ipotesi alcuni pensano che la frase deriva addirittura da Thomas Illiot però diciamo un genovesino diciamo si muove un po' tra questi due orizzonti perché ogni tanto proprio un po' copia però poi nelle opere migliori salta fuori la capacità sua estrosa di rubare e il caso forse più sorprendente è quello della suonatrice di Liuto perché lì è un'opera di cultura caravaggesca non a caso Longhi l'aveva attribuita a Orazio Gentileschi un grande allievo di Caravaggio un'opera di cultura caravaggesca pienamente seicentesca che però appunto nella quale Genovesino inserisce questo dettaglio delle mani da un artista tardomanierista diciamo così che come Golzius è veramente lì ruba proprio ruba ed è stato difficile perché adesso uno vede tutta questa sequenza di immagini e sembra così facile trovare tutti questi confronti mi assicuro che c'è un lavoro dietro consistente un'ultima cosa poi chiudo però rispetto al quale gli studiosi di oggi diciamo così diciamo i giovani di oggi perché di oggi siamo tutti i giovani di oggi sono molto facilitati rispetto agli studiosi della mia generazione perché un libro come questo uno studioso della mia generazione per farlo doveva passare giorni mesi in biblioteca a consultare tutti i repertori delle stampe i repertori delle stampe il mitico Barsch il repertorio di Holstein tutti questi repertori nei quali erano riprodotte le incisioni degli artisti di tutta Europa quindi era un lavoro faticosissimo che oggi invece è reso molto più accelerato e quasi così anche divertente devo dire dal fatto che i più grandi musei internazionali ormai da anni hanno reso disponibili online le loro collezioni di stampe per cui uno apre il sito del MET del Metropolitan Museum di New York il sito del British il sito del Rix Museum di Amsterdam e trova una quantità di un repertorio infinito tra l'altro può fare anche ricerche diciamo come si chiamano quelle trasversali incrociate per cui e quindi è una diciamo degli ambiti di ricerca nei quali diciamo così la non solo internet ma la diciamo così la la cultura museale più internazionale che italiana devo dire che ha diciamo così promosso questa messa a disposizione degli studiosi dei materiali delle collezioni museali e anche dei patrimonio di incisione ha dato più chance non ha dato più possibilità di appunto di acquisizioni scientifiche nuove insomma questo non toglie nulla al merito di questo libro però insomma c'è dietro anche diciamo così la possibilità di fare ricerche più agevoli diciamo così dal computer di casa che una volta non erano possibili va bene allora io vi ringrazio per l'attenzione